Arbusto! Eccolo qua, eh beh. Abbonatevi su Twitch, link in descrizione. Abbonatevi su Twitch. Arbusto! Due funghetti, come state? Io sono Mino e vi do il benvenuto nella Red 3. Due funghetti, come sono Mino e ben ritrovati nella Red 3. Ogni tanto rifacciamo leggere questo messaggio, li leggiamoli insieme perché è importantissimo. Oggi andiamo a fare una missione. Come hai letto dal titolo, oggi andiamo a fare uno scherzo a Mnuzzo. Ma non è uno scherzo, ve lo dico già. Per noi sarà una cosa d'onore. Perché? Perché un membro del Team Rosa andrà a far parte del castello di Mnuzzo. Ah, ma prima di parlare di questo, ragazzi, facciamo un volo e vediamo come sta venendo la nostra bellissima base. Il nostro bioma blu, guardate lì, con gli alberi. L'albero diametista è fantastico. Facciamolo vedere a modo... Eccolo qua. È vero. Ha un suo fascino, eh. Pensate ora che sono pochi, ma ce ne saranno tantissimi di questi alberi. E inizia un po' a popolarsi, eh. Sia di stradine che di vegetazione. E ci sta. Ma non sono loro i protagonisti di questo video, ma è... Lui. Signori, diamo il benvenuto a... Arbusto! Arbusto. Dobbiamo fargli un monumento. È membro ormai effettivo del Team Rosa. Voi dite, ma Mnuzzo, ma da dove viene questo arbusto? Eh, non seguite Twitch. E allora... Vai su Twitch. Link in descrizione. 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 Ok, credo che ci siamo, no? Hai capito? Ti è entrato un po' in testa. Quindi ricordati che anche dopo la fine di questo video io sono già in live su Twitch, quindi passa. Staremo facendo la Redcraft, quindi credo ti interessi la cosa. Go! Andiamo a prendere le cose che ci saranno per arbusto. Andiamo dal signor Nappalus. Signor Nappus che è con noi in questo preciso istante. Gli ho già detto, vuoi un arbusto come amico? Lui ha fatto, sì, assolutamente. Perfetto. No, glielo portiamo. Arbusto! No, qui è tutto vetro. Ma non c'è un modo per uscire velocemente. Qua ha messo tutto vetro, ha messo... Maledetto. Ah, no, aspetta. Io sono alla torre. Valà, che bello. 3, 2, 1. Bam! Signori, ecco qua arbusto. C'è anche bisogno di una schematica perché deve rimanere impresso in tutti noi al signore arbusto. Si può prendere questo? Prendiamo. Oddio, ho detto, ma l'ho rotto. Ok, non l'ho rotto. Ma, ma ha fatto... Ma questo c'era prima? No, l'ho spaccato io. Oh mio Dio. No, 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 no e ora ci dirigiamo verso il nostro obiettivo ovvero il signor Mnuzzo e qua dobbiamo vedere dove fargli il signor arbusto perché il signor arbusto non sta mica ovunque siamo arrivati go eccoci qua spero non ci siano spoiler ah salve ah ma l'ha messi oh ganzi con i nomi dei sub tutti fermati qua precisi ganzo a questa cosa no devo farlo anch'io solo che non saprei come fare dai copiamo Mnuzzo ragazzi i miei sub i miei sub avranno l'onore di avere il loro nome su arbusto ovviamente volete questo nome benissimo abbonatevi su twitch link in descrizione abbonatevi su twitch link in descrizione abbonatevi su twitch link in descrizione abbonatevi per me qui è uno spoiler assurdo guarda lì bellissimo bellissimo e poi ragazzi ci metteremo arbusto andiamo a vedere mettiamo arbusto lui non lo saprà mai bisogna mettere una parte dove si passa una parte dove c'è un passaggio dov'è che ha messo il passaggio vediamo un po' dov'è che ha messo il passaggio è ancora meglio ragazzi di quello di Hogwarts cioè rendendo scherzando ha fatto un castello ancora più bello di quello di Hogwarts eccolo qua il passaggio va giù un posto dove si vede bene quando si sale quando si sale dove vediamo arbusto che compare compare qui è qui ragazzi ok perfetto mi sembra di sì pronti arbusto stai per trovare posto anche te quindi una parte del team rosa è nel castello di minus ecco qua ragazzi arbusto che lo vedrete non è detto e vola lo vedrete ogni volta che arriva arriverete qua eccolo qua guarda guarda bam arbusto e detto questo ragazzi due team sono arbustati vediamo un po' nei prossimi episodi se passiamo ad altre parti oppure continueremo a arbustare i team di Nappus e di Miniso da mine è tutto e nello studio pausa su twitch ciao ragazzi